Andrea Cunzio Revisore Andrea Cunzio Revisore Ciao a tutti, sono Andrea. Una delle cose che più mi ha sempre interessato è la vita. Ma non la vita che possiamo vedere sulla terraferma, bensì quella nei fondali. capire come riesce la vita nei fondali a svilupparsi ma non sto parlando di fondali 5, 600 metri, 1000 metri parlo proprio degli abissi oltre i 2000, oltre i 5000 andiamo a toccare il punto più profondo degli oceani 11.000 metri, fossa delle Marianne ci sono tantissimi adattamenti che questi microorganismi hanno evoluto per poter sopravvivere a queste altissime pressioni pensate che la pressione nel punto più profondo della fossa delle Marianne è circa 1000 chili su centimetro quadrato per fare un paragone, noi ora ne abbiamo uno solo abbiamo un chilo su centimetro quadrato la temperatura è lo stesso estreme, bassissime e oggi vi voglio portare tre esempi di quelli che secondo me sono gli animali più caratteristici e più particolari che sicuramente pochissimi di voi conoscono il primo di cui voglio parlare è una lumaca è una lumaca che è caratterizzata dal vivere in ambienti idrotermali dove l'acqua calda riscaldata geotermicamente risale da dei soffioni questa lumaca riesce ad assorbire il ferro presente nell'acqua ha un guscio completamente ricoperto di ferro e il suo piede, ovvero la parte su cui striscia è ricoperta di lamelle di ferro questo le permette di sopravvivere e di nutrirsi fare i suoi vari giri perché immagino che le lumache faranno dei giri anche sott'acqua ha temperature che superano i 100 gradi proprio lì, vicino ai soffioni questo avviene sui 3.000 metri scendendo ancora più in giù nelle fosse arriviamo sui 5.000, 6.000 metri qua troviamo una specie molto particolare di verme questo verme si nutre del solfuro che esce fuori dai soffioni oceanici questo verme vive in simbiosi quindi assieme a un microorganismo che riesce a prendere le molecole inorganiche come la CO2 e l'ossigeno e renderle zuccheri questi sono pochi adattamenti ma era anche per dirvi che la vita a volte può essere molto difficile ma di sicuro non è possibile grazie 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 grazie